Anticipazioni tempesta d'amore martedì 15 ottobre 2019 Tina soffre moltissimo e ad aiutarla c'è Ragnar. Tra i due si stabilisce una connessione molto importante e speciale. Jessica e Paul grazie a Felicitas passano molto tempo insieme. Alphonse e Hildegard continuano ad avere idee diverse riguardo al viaggio da fare a Lubecca e questo crea delle forti tensioni tra loro. Natasha non smette di raccontare bugie a suo marito e ciò non fa altro che mettere a rischio la loro unione. La cantante inoltre in un momento di rabbia rischia di perdere il controllo.